Dopo una ventina di morti per parte, Russia e Turchia provano ancora una volta a mettersi d'accordo sulla Siria, o più precisamente su Idlib, la provincia del nord-ovest dove l'esercito di Ankara sostiene i ribelli che resistono da settimane all'avanzata dell'esercito di Assad, appoggiato dalle forze di Mosca. La Russia deve fermarsi il più presto possibile. Se ci sono problemi da risolvere, li risolveremo insieme, ha detto il ministro turco Chavasoglu, mentre il Kremlin non esclude un incontro tra Putin ed Erdogan, che ultimamente si sono sentiti e visti spesso per parlare di Siria, Libia e altri scenari che li vedono in competizione. Competizione e spartizione, accordi, il nuovo gasdotto TurkStrim e disaccordi. Nelle ultime ore il governo di Ankara ha mandato altri uomini, blindati e cannoni a media gittata dalla confinante provincia turca di Reinaldi. Altre armi per uccidere non solo soldati nemici. Negli ultimi due mesi quasi 300 civili morti. Gli attacchi continuano a includere obiettivi civili in aree densamente popolate, strutture mediche e insediamenti per sfollati interni. I bombardamenti devono cessare, ha detto il rappresentante per gli esteri dell'Unione Europea Borrell. Marat, Al-Numan e Sarakib sono ormai città fantasma. Gli abitanti sono fuggiti in massa, più di mezzo milione in cerca di riparo e di un momento di sollievo. Una vita di cui cogliamo qualche immagine, ma che non riusciamo neanche lontanamente a immaginare.